Sulle zone più sfortunate perché sono a ridosso di abitazioni utilizzate da Mondragonesi, infatti chiede che la stampa sorride, ma noi da Mondragone possiamo permettere l'usso anche di una stampa che sorride quando parla il sindaco. Non sorridevo per il sindaco. Non posso ridere. Stavo ridendo per fatti mitra. Il vendegno è passato da un bel po'. Ridi, vai. Siamo a dire che siamo a rinforzati.